Nicoletta, perfetto. E lui è diva Nicoletta? Buona sera. Da moda da I.S. E cosa fai per me la vita? E di più di quello che hai. Bravissimo, operai con le app. Le app che sono in descrizione e che tutti, insomma, cercano di fare di modi. Ascolta bene, e come operesti l'uomo in realtà? Libero, che ha tempo per me. Oh, un uomo libero? E' un uomo libero. Un uomo libero è stato del tempo pieno, come lo avresti passato. E stia con lei o sui giardini. I giardinieri quando è brutto tempo non lavorano, ad esempio, vedi? Lui è un giardiniere che quando piove, quando è freddo, è libero, vedi? Ma anche l'estate, perché quando è troppo caldo, sta in casa, lo stesso. Quindi ha molto. Grazie.